Dagli anni 60 Morello forni coniuga innovazione e tradizione ed è grazie ad una dinamica tecnologia che il talento di pianificatori, pizzaioli e chef si perfeziona per dare sempre un sapore nuovo ai prodotti simbolo della cucina italiana. Efficienza, design, bassi consumi e materiali costruttivi di prima qualità consentono ai forni Morello di portare sulla tavola cibi prelibati che abbinano la genuinità della cucina casalinga alla creativa ricercatezza dell'alta ristorazione. Morello forni è leader mondiale nei sistemi di riscaldamento dei piani cottura, abbattimento dei costi e aumento della qualità. Gli elevati standard qualitativi di costruzione e un peso maggiore rispetto alla concorrenza rendono i forni Morello praticamente eterni e la poca manutenzione necessaria consente un ulteriore abbassamento dei costi. Grazie a tutti. Grazie ai nostri sistemi di depurazione brevettati si arriva ad abbattere il 90% delle parti solide all'interno di fumi di scarico che fuoriescono dai forni a legna e dai barbecue. Il risultato? Pizze e focacce più gustose, meno spese per i gestori e la natura ringrazia. L'attenzione che Morello forni riserva ai suoi clienti è assoluta. Ogni esigenza viene ascoltata per proporre la soluzione migliore al prezzo più conveniente. Già agli albori della sua attività, il fondatore di Morello forni, Luigi Morello, era fiero di proclamare qualsiasi forma e dimensione a richiesta. Ancora oggi, le parole di Luigi Morello sono un segno indietro. Indelebile che fanno della Morello forni il leader indiscusso nella progettazione e nella realizzazione di forni professionali a legna, a gas, misti, sia statici che rotanti per pizzerie, ristoranti e panifici. Tecnologie Tecnologie Tradizione Innovazione Design Quattro parole per descrivere più di un'azienda, un ideale. Portare l'eccellenza della cucina italiana nel mondo.